...conoscitiva in materia di politiche di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C. Avvertò che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Sono presenti all'audizione odierna Francesco Saverio Mennini, professore di economia sanitaria ed economica politica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma Torvergata e Carmine Coppola, direttore UOC Medicina Interna e Patologia ed Ecointerventistica ASRA Napoli 3 Sud, stabilimento di Gragnano, che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito della Commissione. Pregherei ciascuno dei nostri ospiti di contenere il proprio intervento entro dieci minuti per dare modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà pubblicata anche sul sito internet della Camera dei Deputati. Cominciamo quindi dando la parola al professor Mennini, che ha delle slide anche da proiettare. A dieci minuti a disposizione. Buon pomeriggio, innanzitutto grazie di avermi invitato, grazie alla possibilità di presentare i risultati di questi studi. Sono stati studi molto importanti, come direte adesso dei risultati, perché dimostrano come e quanto sia stato importante trattare i pazienti con i nuovi farmaci disponibili a partire dal 2015, che hanno permesso di curare tanti pazienti. E allo stesso tempo siamo riusciti a dimostrare la sostenibilità del sistema, nonostante ci fosse molto scetticismo alcuni anni fa in merito a questa argomentazione. Vado veloce, parto con background. La domanda che ci si poneva sempre all'inizio, 2014-2015, era ma questi nuovi farmaci sono costo efficaci? Sono stati pubblicati svariati studi fatti da differenti centri di ricerca, da altri colleghi, anche dal mio centro di ricerca, dove si è dimostrato che erano costo efficaci, però essere solo costo efficace non vuol dire essere automaticamente sostenibile dal sistema, però è sicuramente un punto di partenza fondamentale, perché vuol dire che i benefici che apporta una tecnologia superano i costi che determina acquistarla. Quindi è già un punto di partenza fondamentale. L'altra filone di studi era, ma il trattamento precoce, anche questo è un trattamento costo efficace, perché non so se vi ricordavate che si era partiti per trattare soltanto gli F3 e F4 e invece gli F0 e F1 e F2 no, perché si teneva, vabbè, ma questi tanto non hanno ancora patologie concomitanti, possono ancora aspettare, quindi per un problema di sostenibilità si può rimandare il trattamento negli anni successivi. Siamo riusciti a dimostrare noi, insieme anche ad altri colleghi, che invece anche l'early treatment, quindi il trattamento precoce, è un intervento costo efficace, quindi studi pubblicati hanno dimostrato nuovamente anche questo. Però non bastava questa situazione. La domanda che poi ci ponevamo noi era, visto lo scetticismo, ma questi nuovi farmaci però, oltre a curare i pazienti, e questo è conclamato ormai, addirittura è uno dei primi casi negli ultimi 20-30 anni in cui la real practice ci fornisce dei risultati migliori dei clinical trial, quindi è un successo incredibile. Però riescono a garantirci anche un ritorno dell'investimento che abbiamo effettuato. Non è una condizio sine qua non delle tecnologie garantire il ritorno netto dell'investimento, però volevamo vedere se questi trattamenti, l'investimento fatto dal governo italiano, permette di garantire un ritorno nel tempo. Abbiamo effettuato due studi, il primo studio, quello del policy model long term, che era basato sui dati della letteratura e non su real data, dove già dimostravamo che secondo noi prevedevamo un ritorno nell'investimento. Il secondo studio, che tra l'altro ho inviato qua alla Commissione, pubblicato su Pharma Economics, abbiamo utilizzato la banca dati Peter dell'Istituto Superiore di Sanità, che è la più grossa real world data database per quanto riguarda i pazienti HCV, siamo riusciti a dimostrare che dopo sei anni e due mesi, per la corte dei pazienti trattati nel 2017, c'era il ritorno dell'investimento pieno. Quindi dopo soli sei anni e due mesi, tanto abbiamo speso e tanto ci è ritornato come ritorno dell'investimento. Da sei anni e due mesi in poi iniziano i risparmi. I risparmi sono quantificati in più di 50 milioni di euro, prendendo come considerazione mille pazienti, nell'arco di vent'anni. Quindi non solo è costo efficace, non solo chiaramente cura i pazienti, questi nuovi farmaci, ma ci garantiscono un ritorno pieno dell'investimento e generano anche dei risparmi. Abbiamo calcolato quindi il break-even point, secondo questa formula, ve l'ho messa per far vedere un po' la metodologia, e si sono... Sono i risultati visivi, vedete, con i dati PITAR, quindi a sei anni e due mesi per la corte dei pazienti del 2017 si ottiene il pieno ritorno dell'investimento. Gli histogrammi sotto sono i casi evitati di epatite C, quindi mano a mano che passa il tempo evitiamo anche i grandi casi di epatite C. Abbiamo fatto anche un'analisi di sensitività e dimostra la robustezza dell'analisi che avevamo effettuato. Quest'anno, metà di quest'anno, abbiamo utilizzato, considerando la distribuzione per stati di fibrosi genotipo, utilizzando la banca dati AIFA, insieme alla banca dati PITAR, l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo effettuato quindi con i dati di registro AIFA la medesima analisi con lo stesso modello. I risultati sono ancora più belli, perché chiaramente i pazienti sono di più, sono dati RIA, li abbiamo seguiti, tutti i dati di registro AIFA. Questo era un confronto, stiamo per pubblicare lo studio, fatto anche con altri paesi europei, e guardate come si raggiunge il break-even dopo 5 anni e 5 mesi. Quindi in conclusione, cosa possiamo dire? Che sicuramente questi trattamenti sono vantaggiosi, sono costi efficaci, garantiscono il ritorno all'investimento. C'è ancora un problema aperto per l'epatite C. Attenzione, ci sono pazienti ancora da trattare e ci sono pazienti sommersi, che noi abbiamo stimato essere circa 230 mila, con lo studio che vi ho inviato, quello pubblicato su PLOS ONE, che abbiamo fatto insieme ai PACI, quindi l'Associazione dei Pazienti. Qual è la strategia da seguire? Sicuramente per far emergere questi pazienti la strategia dello screening. Stiamo andando in pubblicazione questo studio con uno screening graduato, quindi non screening su tutta la popolazione, ma graduato per tre corti, dal 68-87 e poi 48-67. In questo modo abbiamo dimostrato che questa è l'opzione più costo efficace, altamente costo efficace, e la si può prendere in considerazione in questo modo per riuscire a raggiungere il risultato importante della riduzione del carico complessivo della malattia fino al 2031. Quindi riusciremo a far emergere questi pazienti che grazie al prezzo molto basso attuale dei farmaci ci sarà un impatto ancora migliore, più costo efficace per quanto riguarda la sostenibilità del sistema. Quindi possiamo dire che con i dati AIFA i numeri di casi evitati è stato di 1.136 pazienti nel 2015-2016 e di 556 pazienti nel periodo successivo. Oltre chiaramente con una potenziale riduzione dei risultati clinici nel tempo e otteniamo quindi risparmi a 20 anni, come dicevo, di circa 52 milioni di euro. A fronte di tutto questo dobbiamo dire che c'è un'efficacia del 98% di questi farmaci che credo sia il risultato più importante che interessa a tutti quanti noi. I pazienti si curano ed i prezzi ormai si sono stati ridotti a livelli molto bassi. Tra l'altro effettuando poi lo screening a quel punto si amplierebbe la platea di pazienti e si potrebbero anche ridurre ulteriormente anche i prezzi stessi dei farmaci. Grazie. Grazie professor Mennini. Do la parola al dottor Coppola. 10 minuti a disposizione. Ok. Questa parte se l'avete. Ah, devo togliere questo. Il microfono, per favore. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio per avermi invitato qua a parlare di epatite C che è l'argomento di cui me ne sto occupando saranno almeno 30 anni e per me è una gioia fare questo oggi. Io ho iniziato a mia carriera nel 1990 più o meno quando ci siamo resi conti che quella grande massa di pazienti affetti di una malattia di una epatite che non sapevamo nemmeno come chiamarla, chiamavamo non A, non B. E questa malattia nel 1990 fu subito correlata all'epatite C che noi abbiamo scoperto nel 1990. Da allora è iniziata la grande battaglia perché questa malattia rappostata al virus dell'epatite C è una malattia molto diffusa in Italia, dati di prevalenza e di incidenza molto elevati. nella mia regione, nella Campania, i dati ancora più importanti, la mia ASL, i territori dell'attuale Napoli del Sud, avevano e hanno il triste primato in Europa di zona più elevata endemia di epatite C. e quello che fu fino ad allora un killer silenzioso, l'epidemia silenziosa. La grande battaglia cominciò con la tentativa di terapia con farmaci a base di interferone, farmaci costosi ma molto poco tollerati e con una bassa efficacia. E ricordo che all'inizio trattavamo i pazienti con una possibilità di risposta del 10%, quindi immaginare che su 100 pazienti 10 rispondevano a terapie con effetti con laterali devastanti e se poi noi andavamo a spalmare il costo di 100 pazienti su 10 pazienti quelli guariti effettivamente avevamo dei costi molto elevati che aggiunti poi ai costi per la gestione degli effetti con laterali indesiderati e per i problemi di tipo psichiatrico, sociologico, familiare, lavorativo erano effettivamente molto importanti. E ancora vivo il ricordo di cose che abbiamo fatto 5 anni fa 2001-2013 noi abbiamo curato questi pazienti con terapie che prevedevano fino a 18 compresse al giorno di farmaci è una follia con effetti collaterali devastanti per un periodo dai 6 mesi ai 18 mesi addirittura con un dramma per la famiglia effetti veramente molto molto importanti e potevamo curare pazienti più giovani con malattia non molto importante senza comorbidità e da questo scenario apocalittico siamo arrivati a oggi dove possiamo trattare tutti i pazienti di tutte le età con tutte le comorbidità in qualsiasi stato di malattia senza nessun problema e questo per noi effettivamente è una magia e contatti di risposta non sarei già detti che vanno fino al 100% immaginare che una terapia antivirale raggiunga tassi di risposta del 100% è effettivamente una cosa emozionante e oltre ad avere miglioramenti per quanto riguarda il danno epatico il miglioramento è venuto anche su altri fronti per esempio molti pazienti dopo la terapia migliorano la funzione renale migliorano la gestione del diabete e addirittura la incidenza del diabete del dictus ischemico della cardiopatia ischemica è inferiore nei pazienti che hanno fatto la terapia e questa è una cosa estremamente importante e d'altronde la testimonianza di questo è che il reparto di medicina del mio ospedale che io dirigo dal momento in cui stiamo facendo questa terapia i ricoveri per malattia epatica scompensata i virus cicloriati si sono azzerati dando un respiro molto importante ai ricoveri per altre patologie e fondamentalmente per i pazienti con malattie epatiche scompensate da malattie metaboliche che ormai si stanno fortemente introducendo rappresentando effettivamente quelle che chiamiamo epidemia del terzo millennio non avremmo mai immaginato di poter curare una malattia virale per definizione le nostre congiunture il nostro patrimonio culturale ci portava a non prevedere questo noi altre malattie come l'HIV l'epatite B pure abbiamo risultati brillanti ma ovviamente la terapia è soppressiva il farmaco sopprima non eradica il virus e quindi terapia che deve essere fatta a vita con tutte le problematiche economiche e connesse alla gestione di questi problemi curiamo una malattia cronica quando mai pensavamo di curare una malattia cronica anche di malattia cronica si cuorisce in questo caso riusciamo a fare prevenzione oncologica perché il virus di per sé e la cirrosi insieme sono grossi problemi per quanto riguarda lo sviluppo dell'epatocarcinoma e in termini di sanità pubblica riducendo la circolazione del virus facciamo quell'effetto che noi diciamo come se fosse per esempio la vaccinazione di massa e quindi il progetto eliminazione effettivamente prende piede ma che cosa sta succedendo adesso adesso noi abbiamo trattato fino ad adesso tutti i pazienti che avevano una malattia importante nota da anni che avevano una forte consapevolezza della malattia per cui affollavano i nostri ambulatori e ci chiedevano con insistenza con appassionati della terapia e questo dal 2015 ad oggi ha visto i centri specialistici con i medici in prima linea che sono posti a uno sforzo sono sottoposti a uno sforzo pazzesco con carichi di lavori indescrivibili aggiuntivi non catalogati da nessuna parte ma la remunerazione della gratificazione del sorriso dei pazienti delle emozioni che ci hanno dato perché guarivano perché ti guardano ti abbracciano è quello che ci ha dato effettivamente la forza e ci hanno ripagato tutti gli sforzi che abbiamo fatto e anche la consapevolezza che probabilmente abbiamo partecipato in modo attivo a scrivere una bella pagina nella storia della medicina e questo ci riempie di gioia noi in Regione Campania abbiamo sviluppato con estrema semplicità un modello basale su un PDTA che prevedeva un tavolo regionale permanente con tutti gli attori di questo sistema fino ad arrivare all'arruolamento e all'erogazione del farmaco una bellissima collaborazione con i farmacisti e anche il mondo del volontariato che non va mai sottaciuto però dobbiamo capire che a questo punto si è chiuso un'epoca dobbiamo aprirne un'altra un'altra qual è? Adesso non sono più i pazienti che bussano alle nostre porte per avere la terapia siamo noi che dobbiamo fare la terapia ai pazienti che ne sono ignari alcuni hanno rimosso questo lavoro questo è un lavoro un po' più importante a cui non siamo granché preparati ci dobbiamo anche preparati perché nella storia della medicina è la prima volta che abbiamo un tipo di approccio di questo tipo e allora secondo me che cosa si deve fare per andare avanti? il primo obiettivo è quello che tutti i pazienti con diagnosi di epatite C che chiedono di essere trattati devono essere curati subito senza distrattezza la distrattezza non è più accettabile secondo me e questo si può fare perché i centri di cura hanno sviluppato sicuramente per raggiungere questi volumi di attività dei modelli efficaci ed efficienti per cui si possono permettere questa cosa la seconda cosa è il sommerso il sommerso le varie categorie anche il professor Medina ne ha parlato in termini diversi io mi voglio occupare per qualche minuto del sommerso generico il sommerso di tutti i giorni cioè i pazienti che girano e non sanno di avere l'epatite e per fare questo secondo me è fondamentale arricchire il centro prescrittore il centro di cura con altre figure professionali ci vuole necessariamente un case manager qualcuno che deve collegare il territorio devo correre il centro di cura con altre strutture che cercherò di dirvi l'ospedale per esempio oggi un paziente che va in ospedale non può non fare il test per l'epatite C perché i pazienti che vanno in ospedale per un motivo qualsiasi sono a più elevata prevalenza di epatite C e quindi vanno assolutamente considerati come soggetti categorie a rischio e vanno fatti il test per l'epatite C ovviamente quando positivi vanno immediatamente riferiti al centro di riferimento per quella struttura quindi a volte vediamo ancora lettere di dimissione dove si mette la prima diagnosi in paziente con epatite C non è più non si fa più così è sbagliato perché un paziente che riceve questa lettera di dimissione acquisisce un messaggio fuorviante di vabbè tutto insomma devo convivere con la malattia invece no questi pazienti che non si rendono conto che la malattia va curata perché parecchie volte si parli di epatite dormiente asintomatica postura sana queste cose dobbiamo assolutamente sfatare e noi nel mio ospedale stiamo già organizzando il progetto HICV che tutti i pazienti che fanno i test per l'epatite C tutti i positivi vengono riferiti al centro e noi ce ne prendiamo cura fino alla completa risoluzione del problema ovviamente questo va fatto anche sul territorio cioè ci vuole una rete capillare sia con gli specialisti ambulatoriali per esempio con i SERD quindi una rete che deve far capo al centro hub del centro pescatore tutti gli altri si devono collegare a questa situazione solo così potremmo effettivamente rendere disponibile la terapia e la consapevolezza della cura un po' a tutti i pazienti e poi il discorso con il medico di medicina generale secondo me è fondamentale perché il medico di medicina generale deve avere necessariamente una strada particolare una strada privilegiata per poter interfacciarsi al centro prescrittura e in questo il case manager anche in questo caso assume un ruolo molto molto importante e nel medico di medicina generale se ha pazienti con l'epatite che ci nota li deve riferire subito al centro di cura i pazienti dove c'è il sospetto clinico perché non dimentichiamo che la medicina si basa fondamentalmente non può prescindere dal ricordo scientifico e dalla metodologia clinica quindi se c'è il sospetto di epatite C deve fare subito il test che secondo me potrebbe essere gratuito anche ricorrendo ai test salivari ai test capillari molto più di basso costo e di facile fruibilità questa è una cosa estremamente importante e una volta che il medico generale ha trovato un paziente positivo va riferito nell'ambulatorio di terapia dell'epatite C del centro prescrittore non nell'ambulatorio dell'epatologia generale quindi la lista di attesa deve essere zero possibilmente e ovviamente attenzione io tengo molto a questa cosa perché molti pazienti che arrivano da noi arrivano perché hanno rimosso il problema persone che sono serevessate per essere portate di epatite C come se erano infette contagiosi queste persone vanno curate con attenzione va fatto un colloquio molto sereno in ambiente adatto e perché se ci sono a questo punto dei momenti di incomprensione questo pregiudica fortemente il concordare e il condividere la terapia e mai come in questo momento è fondamentale rispettare il dettato dell'articolo 20 del codice di deontologia medica che termina così il tempo della comunicazione è un tempo di cura è importante perché se perdiamo il tempo iniziale perdiamo anche il paziente che si allontana perché ha degli scudi da questo punto di vista e a questo punto che cosa bisogna fare cercare anche qualche innovazione organizzativa noi a Gragnana abbiamo fatto una cosa molto semplice dal primo giorno abbiamo visto questa marea di persone che veniva abbiamo fatto un famoso progetto ospedale porta aperte nel senso che abbiamo fatto una volta al mese il giovedì dalle 16 alle 22 un sabato e una domenica abbiamo aperto le porte degli ambulatori per ecografia per fibroscane per visite tutta questa cosa ha ridotto le distrattesi le azzerate ha contenito una realtà anche abbastanza compressa dal punto di vista sociale ed economica che persone anziane avevano bisogno anche del familiare del congiunto che li accompagnava all'ospedale così abbiamo ottenuto degli ottimi risultati questo ci ha contenito di azzerare la distrattesi e di andare avanti io per concludere presidente giusto un minuto quindi trattare subito me li sono appuntati questi segni facile fruibilità campagne di sensibilizzazione noi abbiamo fatto tantissime abbiamo un camper con l'associazione andiamo in giro a fare nei comuni nelle diocesi nelle chiese a fare questo tipo di attività di divulgazione e la cosa importante è che mi piace simpaticamente se me ne consentite di dire fare queste reti una rete reazionale che detta le condizioni fino alla rete poi aziendale e va sempre con una filosofia basata sulla taglia noi parlavamo all'inizio di killer silenzioso allora ci vuole una taglia secondo me tutti i soggetti che concorrono alla cattura del killer possono avere un incentivo premiante e questo probabilmente potrebbe rendere questa battaglia fino ad arrivare all'eliminazione delle patite la potrebbe rendere più attuale e più probabile bene grazie dottor Coppola ci sono domande da parte dei colleghi onorevole Carnevali io ho bisogno di chiedere un'informazione in particolare per non mia conoscenza a noi pare chiaro perché in tutte devo dire le audizioni è molto è servita anche le due audizioni che abbiamo sentito oggi credo che questa commissione non possa più avere dubbi sul rapporto costo-efficacia di quello del vantaggio che abbiamo in particolare per quanto riguarda il trattamento precoce per quanto riguarda il trattamento per pazienti con HCV quello che e c'è chiaro anche dai dati riferiti ai farmaci innovativi non oncologici che noi siamo nella condizione di non utilizzare tutte le risorse che sono disponibili da quel fondo che potrebbero molto probabilmente riuscire anche a soddisfare quell'esigenza di ampliamento di reclutamento e anche di anticipare il trattamento e il reclutamento anche attraverso eventualmente la questione relativamente ai test a me non è chiaro e quindi chiedo proprio per conoscenza come avviene invece il meccanismo di cioè le regioni come si comportano cioè il budget che viene trasferito alle aziende ospedaliere come funziona perché a me è questo che non mi è chiaro e soprattutto quindi molto probabilmente legato al funzionamento del fondo dei farmaci innovativi cioè l'inghippo nel avere un fondo incapiente e avere un fondo eccedente dove sta? ecco se mi aiutate a capire questo allora provo a spiegare facciamo raccogliamo le domande no no ci mancherebbe e poi vi facciamo rispondere così raccogliamo tutte le domande sì onorevole Novelli ci sono altri dopo grazie presidente ma anch'io ho alcuni quesiti allora è chiaro come diceva poco anzi l'onorevole Carnevali che il problema c'è e possiamo risolverlo non possiamo solamente contenerlo ma risolverlo allora il ragionamento che ho sentito fare più volte è anche legato a un differente tipo di azione per quanto riguarda la prevenzione e la cura che si differenzia da regione a regione ci sono delle sensibilità diverse ecco alcune regioni agiscono in modo più efficace altre perlomeno mi sembra di aver avuto questa informazione agiscono in modo meno efficace per la cura c'è l'accesso al fondo per i farmaci innovativi che non è stato peraltro utilizzato pienamente ma fra non molto questi farmaci usciranno dal fondo per i farmaci innovativi quindi non saranno più innovativi questo che cosa significa in termini pratici che entreranno nel come dire nel plafond nel bilancio regionale che dovrà dedicare in base anche alle iniziative politiche in questo caso un certo insomma dovrà utilizzare fondi fondi propri per per l'acquisto di questi farmaci io vi porto un esempio in Fruvanzia Giulia regione da cui provengo non usufruisce del fondo dei farmaci innovativi perché ne è fuori e quindi utilizza una certa quantità del bilancio ma mi domando nel momento in cui tutte le regioni si troveranno nella stessa condizione cioè non potranno usufruire di questo fondo secondo voi quale potrebbe essere un'iniziativa come dire coerente per evitare che il sistema si si ammorbidisca si riduca non venga più non sia più funzionale grazie allora non mi sembra ci siano altre domande professor Mennini urge una premessa il fondo il tetto per la farmaceutica purtroppo bisogna anche dirlo negli anni non è stato mai adeguato è un tetto che non rappresenta il fabbisogno reale quindi secondo me la prima azione che si dovrebbe fare è mettere le mani sul tetto della farmaceutica adeguarlo al reale fabbisogno anche perché negli ultimi anni è stato in termini reali ridotto addirittura si è abbassato il tetto della farmaceutica quindi parte andrebbe eliminato il tetto ma comunque questo è un discorso più di natura economica non mi addentro per quanto riguarda la prima parte della domanda come funziona per le regioni lì c'è stato una serie di problemi soprattutto negli anni passati dove le regioni lamentavano il fatto di non conoscere esattamente qual era il prezzo reale dei farmaci in realtà in realtà c'è sempre sono delle persone all'interno della regione che le conoscono io stavo faccio parte del gruppo di lavoro sull'epatite cina in regione Lazio infatti in regione Lazio questo problema non c'è mai stato perché comunque la responsabile del farmaceutico della regione Lazio conosceva esattamente quali erano i prezzi anche secretati perché li conoscono chiaramente non li vanno a diffondere in giro quindi sapevano esattamente abbiamo stabilito qual era il piano negli anni per fornire i trattamenti e si sapeva quindi anche considerando il payback dell'anno successivo quanto la regione avrebbe dovuto in realtà anticipare prima ma poi gli sarebbe rientrato c'è stato il blocco solo il primo anno poi in realtà si è sbloccata tutta la situazione poi tutte le regioni sono andate a regime infatti oggi come oggi questo problema non esiste più un problema che è esistito il primo anno in alcune realtà è stato strumentale mi permetto di dire perché ripeto tutte le regioni sapevano esattamente quali erano gli scaglioni della scontistica quindi potevano farsi un attimo due conti e capire che non ci sarebbe stato un problema di sostenibilità quindi a questo punto di vista ecco ho chiarito un pochettino insomma adesso le regioni sanno esattamente come funziona le differenze regionali negli anni passati ci sono state proprio conseguenza di questo approccio e anche un po' di un approccio anche qua sono un po' diretto scusatemi ma di diffidenza di alcuni responsabili regionali nei confronti di questi farmaci io ho avuto molte discussioni sono stato anche accusato di stare al soldo delle aziende e quant'altro fortunatamente poi i risultati parlano chiari ma insomma parlavano chiari anche prima uno si andava a vedere un po' i risultati dei farmaci era palese la convenienza nel trattare i pazienti quindi c'è stato un forte rallentamento iniziale in alcune regioni poi dopo adesso sono messe tutte a regime devo dire che grosse differenze anche parlando con l'associazione dei pazienti non ci stanno il discorso della perdita dell'innovazione è un discorso fondamentale bisogna fare molta attenzione sin da adesso in finanziaria credo è molto importante il ruolo di voi decisori politici perché è vero questi farmaci perderanno l'innovazione il rischio è che quindi poi dopo vadano nel calderone generalizzato il Friuli Venezia Giulia ha storicamente sempre una spesa farmaceutica costante non è che voglio ridurre la capacità e l'efficienza di quella regione però negli anni 15-20 anni fa la percentuale era quella di spesa farmaceutica rimasta sempre tale sono stati in grado di mantenerla tale per cui non hanno bisogno di ricorrere al fondo però nel momento in cui si dovesse creare la situazione che le ha paventato tutte le regioni comincerebbero avere dei grossi problemi quindi il rischio è che non si riuscirebbero a trattare i pazienti che ne hanno reale bisogno alla soluzione quale può essere una molto veloce rinnovo dell'innovazione si può richiedere l'allungamento dei criteri di innovatività credo che durino tre anni non sono esperto adesso della normativa ma credo durino ulteriori tre anni in tre anni non si riuscirebbero a trattare tutti quanti i pazienti però poi con l'abbattimento del prezzo poi dopo si riuscirebbero a superare l'altra parte potrebbe essere ampliare un po' il fondo basta fare due conti perché è vero che c'è un avanzo del fondo però non basterebbe per trattare diciamo i circa 400.000 che ancora mancano diciamo un 200.000 circa mancano di quelli che conosciamo altri circa 220 230.000 è un po' il sommerso che abbiamo evidenziato con l'articolo che abbiamo fatto con l'epa C quindi parliamo di circa 400.000 pazienti non basterebbero in due o tre anni quindi si dovrebbe comunque incrementare un pochettino terza opzione fare un fondo ad hoc per l'epatite C però qua io vedo un pericolo che poi dopo arrivano quelli dei diabetici ti dicono fate il fondo per i diabetici e via discorrendo quindi quello può essere un pericolo ulteriore però certamente una soluzione va trovata tra queste tre questo senso ombra di dubbio io credo che la strada del rinnovo e dell'innovazione sia la più rapida la più veloce e potrebbe garantire per rinnovare il criterio di innovazione per i farmaci è previsto no onorevole Carnevale sì no solamente ecco siccome c'è una diretta per fare in modo che possa essere eseguita la diretta alternatevi e parlate al microfono sì sì onorevole Carnevale voleva perché sulla questione dell'innovazione della scadenza dell'innovazione è tema difficoltà perché lo stessa preoccupazione che lei solleva sulla questione del fondo è la questione del perché allora anche altri farmaci non possono come dire avere riconosciuto di nuovo l'innovatività sapendo che peraltro la previsione di una riduzione del periodo dell'innovatività da tre a due anni e che alla scadenza dell'innovazione questo permette di poter avere una ricontrattualizzazione del prezzo così quindi insomma diciamo che questo non l'avevo sottolineato permetterebbe anche una ricontrattazione del prezzo quindi si potrebbe anche abbassare ulteriormente il prezzo in questo caso e credo che non ci siano grosse difficoltà da parte anche aziende di accettarlo perché si amplia ulteriormente la platea dei pazienti quindi andrebbe bene però in questo caso non voglio fare un confronto tra farmaci qui ci troviamo di fronte a farmaci che guariscono i pazienti nel 98% dei casi credo che il rinnovo dell'innovazione sia abbastanza giustificato anche nei confronti di altri trattamenti ripeto non voglio fare un confronto tra trattamenti ma è un unicum quello che negli ultimi anni si è venuto a verificare con i farmaci e l'epatite C perdere questa occasione di eradicare la patola malattica così tra l'altro questo è un obiettivo dell'OMS che ci ha posto dell'eradicazione della malattia entro pochi anni e questo lo potremo fare perseguendo questa strada ripeto ormai la sostenibilità è ampiamente dimostrabile non c'è proprio nessun problema e credo che ci sia ampia disponibilità anche del settore industriale a venire incontro ulteriormente grazie professor Mellini dottor Coppola vuole aggiungere qualcosa in effetti sapere che del fondo disponibile questo triennale non siamo stati in grado di utilizzarlo tutto c'è un po' di amarezza però non so se avremmo potuto fare qualcosa in più perché abbiamo fatto tanto immaginare che questo fondo non ci sia più e che andiamo in un bilancio ordinario e che i nostri pazienti a cui stiamo sensibilizzando su cui stiamo lavorando per fare emergere il sommerso per curarli dobbiamo mettere poi contingentando l'industria attesa penso che sia una cosa una strada da evitare assolutamente anzi mi permetterei di aggiungere ancora che bisognerebbe allogare anche le risorse per l'organizzazione perché adesso per fare emergere il sommerso l'organizzazione ha bisogno di un fondo per poter in qualche modo creare una struttura diversa da quella che abbiamo avuto benissimo grazie ringraziamo i nostri ospiti per il contributo e dichiaro conclusa questa audizione grazie e buon pomeriggio ci fermiamo per l'ufficio di presidenza e i rappresentanti dei gruppi grazie